Ciao a tutti! Noi avevamo qualcosa in sospeso da un sacco di tempo Uno dei primi video, se non il primo, del 2015 è stato il mio What's in my bag Allora vi dissi che non vi avrei fatto vedere la mia make-up bag da borsa in quell'occasione altrimenti il video sarebbe diventato lunghissimo e vi ho chiesto se eravate interessate a vedere comunque che cosa contenessi nella make-up bag che porto con me tutti i giorni Mi avete risposto in tantissime di sì e il video ve lo registro ora Quindi oggi ho deciso di recuperare il tempo perso e parliamo della mia make-up bag da borsetta In quel video voi avete visto un'altra make-up bag era una make-up bag di Hello Kitty ma l'ho cambiata un po' perché cambia spesso le pochette nella borsa un po' come facciamo tutte e un po' perché quella sinceramente essendo rigida e molto strutturata un po' mi dava fastidio e poi conteneva meno di quanto contiene questa Questa l'avrete vista tutti sicuramente è una pochettina di H&M e mi piace moltissimo perché è così morbidissimo il tessuto prende bene la forma di quello che ci mettete ed è così molto più capiente E questo è stato il regalo della mia amica Fede a cui mando un bacione Allora, il concetto di quello che porto io con me Qui dentro c'è tutto quello che serve eventualmente per fare un trucco assolutamente completo partendo dalla base Io lo sapete, mi trucco quotidianamente praticamente sempre come mi vedete però può succedere che sia particolarmente in ritardo o per mille motivi magari faccia solo la base In quel caso, se vado al lavoro o se sono in ufficio poi mi trucco lì quindi vado a finire il tutto con le cose che ho qui dentro altrimenti comunque qui ci sono le cose che mi servono per i vari ritocchi durante la giornata Per un periodo della mia vita portavo pochissimo normalmente con me e poi andavo a inserire altre cose specialmente quelle che riguardavano la base a seconda delle esigenze in questo modo però accadeva sempre che non avessi mai le cose che mi servivano quando in realtà mi servivano Allora ho deciso che questa è diventata la mia make a bag fissa io questa la porto sempre con me anche se sto fuori due ore così almeno sono certa di avere sempre tutto quello che potrebbe servirmi Io non ve l'ho mai detto ma ve lo dico ora visto che me l'avete chiesto spesso sia qui che su Instagram che lavoro faccio allora in realtà faccio un lavoro per modo di dire nel senso che sono stata impiegata per 14 anni in banca a tempo pieno poi per varie ragioni che magari in altre occasioni vi racconterò non lavoro più a tempo pieno in banca ma lavoro con mio marito tengo l'amministrazione a lui e poi vado anche in studio da mia sorella che è medico e faccio un po' di segreteria e amministrazione anche a lei quindi cosa accade? che o sono in studio o sono in un ufficio da mio marito o sono in giro per commissioni fondamentalmente faccio la facchina tra i vari uffici dalla posta alla banca ufficio in poste insomma chi più ne ha più ne metta IMS cose di questo genere quindi di fatto mi organizzo io più o meno a seconda delle esigenze gli orari a meno che appunto non debba essere presente fisicamente nell'ufficio di mio marito o in studio della mia sorella e mi organizzo le giornate diciamo lavorative dunque per questo motivo tendo ad avere sempre tutto con me tra l'altro piccolina è covoda quindi alla fine non tolgo mai niente da qui può cambiare qualcosa specialmente possono cambiare i prodotti labbra quelli variano a seconda del periodo e comunque sempre qui aggiungo il rossetto o comunque la combo labbra che ho deciso di indossare quel giorno se non è qui la metto nella taschina lo metto così nella taschina della borsa prima di uscire ma ora premessa lunghissima vediamo di arrivare al contenuto dunque le metto un pochino in ordine qui davanti a me in modo da andare in ordine di utilizzo più o meno ecco ora la mia pochettina è vuota e vediamo di andare a riempirla insieme per prima cosa io porto con me queste salviettine leva trucco queste sono delle salviettine di Douglas in formato pocket e le porto con me per correggere eventuali errori mi sbavasse qualcosa o cose di questo genere oppure eventualmente per rifare la base viso mi sarà capitato forse un paio di volte nella vita però preferisco essere preparata in questo senso specialmente in estate se faccio una base leggera che sia una BB cream o che sia un fondotinta in polvere può essere che se sto fuori tutto il giorno la base viso in realtà non sia più correggibile diciamo così e se subito dopo il lavoro faccio qualcosa e non posso andare a casa che sia ad andare a bere un aperitivo con un'amica o da portare la bambina da qualche parte preferisco togliere il trucco solo del viso non degli occhi con una salviettina e andare così a rifarlo invece che appiccicare cose su cose specialmente in estate preferisco fare così poi ho sempre con me e adesso comincio ad utilizzarle molto di più che in inverno questi fogliettini assorbisebo io sto usando questi della Kiko e mi ci trovo benissimo sono sono vedete fatti così con la bustina bianca morbida andate a togliere un fogliettino che è leggermente incipriato andate a tamponare semplicemente l'eccesso di sebo io specialmente nella zona Kiko in estate dove studio di più non andate a togliere il trucco che avete in viso e questo spessissimo è più che sufficiente per rinnovare la mia base la maggior parte delle volte non ho bisogno di rincipriarmi se ho un fondotinta come quello che sto usando adesso cioè un fondotinta lunga tenuta sapete che io sto utilizzando il Max Factor Face Finity Stay Flawless 3 in 1 un nome più lungo non ci poteva essere ecco quando ho un fondotinta così da una buona coprenza e da una tenuta lunghissima queste a metà giornata sono più che sufficienti per risolvere qualsiasi tipo di problema altrimenti cosa porto con me porto questo questo è un fondotinta in polvere e non è una cipria e nello specifico è il Make Up Forever Professional Paris Pro Finish si chiama e io ce l'ho nella colorazione 120 è appunto un fondotinta compatto in polvere questa è la cialda la colorazione per me è perfetta e al di sotto c'è la sua spugnettina con la base aereata per non far proliferare i batteri appunto tanto sono rimasta perplessa come avete visto se avete visto il mio video dei prodotti flop dal famosissimo HDD Make Up Forever tanto sono innamorata di questo prodotto è fenomenale è un prodotto assolutamente setosissimo una polvere leggerissima ma nello stesso tempo assolutamente coprente non va a seccare la pelle non si va a infilare nelle rughette ha una buona durata per essere un fondotinta in polvere a me capita spesso specialmente da questo periodo in poi di fare la base con il fondotinta in polvere e diciamo che c'è la necessità di ritoccare la metà giornata però per quelle quattro ore buone la base resta assolutamente intatta per me che è una pelle mista è una soluzione ottima per affrontare la stagione più calda ed è anche una soluzione veloce al mattino per truccarsi è un prodotto questo che mi piace moltissimo se avete la possibilità andatelo a vedere perché ne vale assolutamente la pena poi sempre per restare sulla base viso ho il mio solito instant anti age il cancelletta di Maybelline in colorazione light questo lo uso non tanto per le occhiaie perché se utilizzo questo per coprire le occhiaie al mattino oppure un altro correttore che sto testando ora vi parlerò a breve di cui sono contentissima quindi correttore che su di me resistono è difficile che io debba andare a ritoccare la zona occhiaie poi preferisco comunque non appesantirlo in ogni caso ce l'ho e se serve lo uso io questo lo uso in giro più che altro per quasi come un fondo quindi vado eventualmente se è necessario a coprirmi i rossori lo uso un po' sul viso dove serve ed è la base perfetta per questo fondotinta quindi quando uso questo fondotinta come base proprio metto al di sotto questo per coprire i rossori più evidenti e la mia base estiva diciamo è perfetta poi sempre per restare sulla base io porto con me anche questa questa ve la feci vedere in un video vecchissimo è una BB cream miracle skin perfector di Garnier ed è una BB cream occhi è fatta così roll on quindi voi la potete stendere sulla zona occhiaie vedete ha questo colore leggermente arancio giallino non so se lo vedete che però voi andate a stendere a picchiettare ed è perfetto vedete ha una discreta coprenza va a uniformarsi benissimo con l'incarnato ed è un prodotto che io amo utilizzare fuori casa perché se sono particolarmente stanca se sono a fine giornata ma non posso rientrare innanzitutto c'è questo dispenser roll on in metallo che va subito a dare una botta di fita allo sguardo quindi vi rinfresca ed è molto piacevole inoltre essendo una BB cream ha una consistenza super super leggera quindi se devo ritoccare le occhiaie preferisco farlo con questo che non con il correttore perché è sufficiente per rinforzare il correttore che c'è indosso e per illuminare lo sguardo poi ovviamente la pinzetta perché si sa non si può stare senza un elastico per capelli uno specchiettino questo ve lo mostrai nel video sulle puccioserie utili poi anche questo nello stesso video ve lo mostrai queste limettine per unghie che è meglio sempre averle a me difficilmente si rovinano si spezzano le unghie però dovesse capitare corro decisamente ai ripari poi una cosa che ho dimenticato di dirvi nel caso in cui io rifaccia la base trucco ripeto è successo pochissime volte però preferisco avere con me questo campioncino di una crema idratante questa non è in realtà propriamente una crema idratante ma in quei casi è sufficiente questa è di Dior della linea Capture Total è la Dream Skin fa parte della linea anti-age di Dior e io questa ce l'ho anche in full size non è propriamente una crema idratante nel senso che non è sufficiente per idratare per tutta la giornata il viso però è molto molto leggera quindi per applicare poi dopo velocemente un trucco immediatamente va benissimo e ha un effetto leggermente illuminante quindi va ad idratare e a ridare tono al viso e luce al viso quindi è fantastica da utilizzare proprio quando un trucco deve essere rifatto a fine giornata quando magari avete il viso ingregito per la stanchezza e da subito appunto questa luce è molto molto piacevole poi passiamo a blush e illuminante io ho smesso di portare con me dei blush in polvere perché ne ho rotti due in borsa quindi ho detto basta inoltre evito così di portarmi anche pennelli ho deciso di portare con me questo prodotto di Kiko di una collezione che assolutamente non ricordo quale comunque di questo inverno si chiama Kiko Glow 2 blush and highlighter è un prodotto due in uno da una parte c'è il blush che è questo rosa antico molto molto delicato molto naturale e dall'altra parte c'è l'illuminante anch'esso un illuminante rosato allora lo porto con me perché normalmente a casa non lo utilizzo perché non lo amo particolarmente non amo particolarmente il blush cioè il colore mi piace tantissimo guardate quanto è carino il colore è veramente bello ed è anche abbastanza sfumabile vedete però è uno di quei prodotti in crema che secondo me tende a mangiarsi un po' la base al di sotto cioè quando io lo metto nel momento in cui cerco di sfumarlo con le dita porto via il fondotinta che ho sotto succede a volte con alcuni blush in crema e quindi insomma preferisco non utilizzarlo come prodotto la mattina ecco però è un bel colorino non ha una grandissima durata però per andare a ravvivare il blush della giornata va benissimo che mi piace tantissimo invece è l'illuminante perché è molto difficile trovare un illuminante di questo colore lo vedete qui di questo colore rosato beggiato è bellissimo si sfuma benissimo non ha brillantini assolutamente però attrae la luce divinamente è discreto ma illumina davvero questo è un prodotto che mi piace invece tanto e spesso lo uso anche a casa poi vi dicevo che ho tutto quindi passiamo agli occhi per gli occhi ho una matitina questo è un sample di una matita nera waterproof di Make Up For Ever poi ho una matita marrone questa qui piccolina ormai di Kiko della linea Precision Eye Pencil è la numero 301 un bel marrone cioccolato che va sempre bene poi il mozzicone quello che mi resta della mia matita burro preferita sempre di Kiko qui si è cancellato tutto non faceva parte della collezione Boulevard Rock che mi pare fosse la 01 è tuttora la matita che sto utilizzando perché ne avevo acquistate due perché mi era piaciuta veramente un sacco e questo piccolino questo mozzicone piccolino è quello che ho deciso di portare con me poi porto con me una matita per le sopracciglia questa è quella di Kiko che è comodissima perché ha da questa parte la spazzolina da questa parte la matita appunto e questa si chiama Precision Eyebrow Pencil io ce l'ho nella colorazione 02 che per me va benissimo e ho deciso di portarla con me perché tendenzialmente io uso anzi uso sempre gli ombretti per le sopracciglia preferisco mi durano di più e ho più manualità nell'utilizzo degli ombretti rispetto alla matita però può accadere specialmente in questa parte dell'anno che magari il trucco si vada un po' a sciogliere in generale e preferisco avere un prodotto per andare a ritoccare ove fosse necessario e poi ultimo prodotto occhi che porto porto questa matitona doppia sempre di Kiko questa faceva parte della collezione dell'estate scorsa Life in Rio mi pare si chiamasse ed ho una matita doppia da una parte è marrone vedete così un bellissimo marrone un marrone freddo con una punta di taupe guardate come si sfuma e dall'altra parte è uno stupendo color burro rosato allora mi piace tantissimo questa matitona perché scusatemi ma io registro sempre allora in cui escono i bambini dalla scuola e io ne ho due vicine un elementare una media un asilo quindi ecco sentirete un po' di bambini che parlano mi piace un sacco dicevo perché uno per il colore perché è un burro rosato bellissimo e due perché entrambi i lati sono assolutamente matte io con questo matitone posso fare tranquillamente il trucco occhi completo posso utilizzarlo sulla palpebra mobile il colore burro rosato diciamo sotto l'arcata sopraccigliare o nell'angolo interno dell'occhio nella rima interna la parte marrone posso utilizzarla anche per andare a delineare la rima inferiore insomma con questo si può fare un trucco occhi completo ha una burrata eccellente quindi questa la porto sempre con me nel caso in cui appunto non mi sia proprio truccata gli occhi poi un sample di mascara questo è il Clinique High Impact Mascara che è un mascara normale secondo me nel senso che fa quello che deve fare non volumizza particolarmente non allunga particolarmente però insomma non è neanche malaccio ma mi piace molto per la sua consistenza liquida che resta molto liquida fino al termine del prodotto almeno io ho sempre utilizzato questi in sample e per tutta la durata diciamo del sample il mascara resta intatto e non si secca mi piace molto appunto perché essendo così liquido può essere messo anche su un mascara che già avete indosso senza fare l'effetto tronco di albero sulle ciglia ecco diciamo così e poi cominciamo con i prodotti labbra allora di base io con me ho sempre questo che è un Kiss Balm Curly Lip Balm di Kiko ed è questo balsamo labbra che dà semplicemente un effetto minimamente rosato perlato alle labbra ma lo trovo abbastanza idratante questo con sotto una matita dà una bella sensazione di labbra piena e rimpolpata ed è appunto idratante e questo faceva parte della collezione natalizia di Kiko poi porto con me questo sample di lucida labbra di Claren Gloss Prestige e questo è nella numerazione 04 faceva parte di un kit e mi piace veramente molto intanto ha un profumino eccezionale fragoloso buonissimo e poi visto così sembra che abbia brillantini ma in realtà non li ha il colore è molto bello è questo colore rosa pieno un po' tendente al malva molto carino è quello che mi piace tantissimo e che non appiccica per niente le labbra poi una matita universale diciamo così la pastello ballerina di neve cosmetics che è esattamente il mio colore di labbra quindi la posso mettere su tutte le labbra oppure solo sul contorno e applicare qualsiasi prodotto che io abbia qui e che adesso vi mostro e va benissimo poi il mio amore assoluto e ve ne ho già parlato mi piace un sacco è questa tinta le ultime tinte in olio di Yves Saint Laurent e questa nello specifico è la 6.2L 900 un colorino assolutamente rosato neutro un po' coralloso mi piace tantissimo questo prodotto e ve ne ho già parlato poi il rossetto che faceva parte del kit di Clinique Honey mi sembra Honey qualcosa che è stupendo che voi vedete in questo colore marrone scurissimo ma in realtà è così questo veramente è un prodotto bellissimo è super idratante ma non serve assolutamente contornare le labbra con una matita ve lo mettete anche senza specchio mi piace da morire è veramente molto idratante ed è quasi riparatura secondo me e poi porto ormai da quando ce li ho perché mi piacciono da morire il matitone numero 02 della collezione Next Generation di Kiko che mi avete visto più e più volte questo nude rosato abbastanza naturale molto bello effetto semi matte molto molto durevole mi piace moltissimo da solo ma mi piace anche con applicato sopra il suo gloss il glossy lip gloss che ho acquistato da poco l'avete visto dello stesso identico colore che va quindi a cambiare semplicemente il finish di quel matitone se ce lo mettete sopra ma mi piace moltissimo anche da applicare da solo è molto lucido dà un effetto di labbra rimpolpate e ha un profumo e un sapore buonissimi è veramente un prodotto piacevole da replicare durante la giornata come vedete io porto con me cose semplici che sia facile utilizzare anche in situazioni non comodissime poi porto sempre con me due ciabbi che io amo nello specifico io porto questi due in sample uno è questo sono i ciabbi di Clinique questo è lo 07 super strawberry che è questo rosa anche questo un rosa labbra bellissimo secondo me sapete che anche questi sono lucidi idratanti bello mi piace tantissimo sulle mie labbra e non so se lo notate io sono arrivata qui e praticamente l'ho finito quindi anche questo è un prodotto che a breve vedrete i prodotti finiti e che potrei anche ricomprare perché è un colore che adoro e poi un altro bellissimo è questo ed è l'unico colore vivace che porto con me ed è sempre Clinique Chubby Stick Intense questo il numero 03 My Test Maraschino che è questo bellissimo color fragola guardate quanto è bello che però è sempre un balsamo labbra è sempre un po' traslucido quindi è comunque un prodotto facile da applicare fuori casa ma da questa luminosità bellissima al viso e questo colore che mi piace da morire e poi veramente i chabbi li adoro perché sono stra confortevoli sulle labbra e durano perché durano e poi oggi ho il rossetto che sto indossando adesso che è un rossetto che ho comprato poi ho lasciato un po' da parte ma che avrei scoperto ultimamente mi piace moltissimo è un luster di MAC ed è l'unico luster che ho ed è syrup è questo color labbra appunto leggermente più scuro però essendo un luster è uno di quelli tra i MAC che dura di meno è un prodotto sicuramente da riapplicare durante la giornata però dà questo effetto anche qui traslucido morbido idratante sono in questo periodo il tipo di prodotto labbra che preferisco o questo o le tinte diciamo che la via di mezzo del rossetto classico lo sto usando un pochino di meno ecco con questo vi ho mostrato tutto quello che ho nella mia make up bag da borsetta e che ripeto tendenzialmente non cambia mai a parte qualche prodotto labbra ogni tanto io ho terminato vi mando un bacione e alla prossima se vi va ciao